si ragazzi ho comprato la mini moto più economica di amazon so già che questa moto molto probabilmente sarà un pezzo di merda a 299 euro su amazon che cazzo ci può da procediamo a vedere cosa contiene il nostro cina pacco iniziamo con l'unboxing a 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 61 gradi a 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 eccolo ultimo try quello buono a a oh